state perdendo terreno sei un ignorante terribile da tipo spedini di carne di agnelli capo la dito occhio che da qual parava non arrivato qualcosa da qua c'è qua sopra c'è la scamorza ma c'è la scamorza faccio un tentativo faccio un tentativo per le armi che dita occhio occhio da là sopra là sopra là sopra io provo i and 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 ma no sono scesi giù e quindi saranno dietro questa roccia lì che sta appuntando simon stai dicendo che ingrasciata come ti permette non è quella pietra terra arriva il gas c'è come si fanno non c'è un coso, un proiettile è due non siete contro quelli e basta devo arrivare grandi grandi ottimo 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 bravi voi bravi voi però non capisco quelli come sono morto dentro la chiesa perché non erano loro e vabbè si saranno fisi con altri o sono rimasti incastrati col gas non può essere bravi 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 Ok.